Benvenuti nel mondo degli orologi Orient. Orient è un marchio giapponese di orologi nato nel 1950. L'azienda ha iniziato la sua attività producendo orologi economici con movimenti meccanici, ma nel corso degli anni ha sviluppato una gamma di orologi di alta qualità, diventando uno dei marchi di orologi più noti del Giappone. L'attenzione ai dettagli e alle finiture di alta qualità, unite all'utilizzo di movimenti meccanici di produzione propria, hanno reso Orient un marchio di orologi di prestigio in Giappone e nel mondo. L'azienda produce sia orologi da uomo che da donna, con una vasta gamma di stili e design. La gamma di orologi Orient è caratterizzata dalla classica eleganza degli orologi tradizionali giapponesi, ma anche dalla moderna tecnologia degli orologi sportivi. Tra i modelli più famosi di Orient troviamo l'Orient Star, l'Orient Classic e l'Orient Mako. L'Orient Star è un orologio di lusso caratterizzato da un design elegante e sofisticato, che richiama le tradizioni dell'orologeria giapponese. Questo modello è dotato di un movimento meccanico di alta precisione e di una cassa in acciaio inossidabile di alta qualità. L'Orient Classic è un orologio tradizionale giapponese caratterizzato da un design semplice e pulito, che richiama le radici storiche del marchio. Questo modello è dotato di un movimento meccanico di produzione propria e di una cassa in acciaio inossidabile di alta qualità. L'Orient Mako è un orologio sportivo da subacqueo, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile e una lunetta girevole unidirezionale. Questo modello è dotato di un movimento automatico di produzione propria e di una resistenza all'acqua fino a 200 metri. Orient è stata acquisita dal gruppo giapponese Seiko Epson nel 2009, ma continua a produrre orologi di alta qualità con movimenti meccanici e a mantenere la sua reputazione di marchio di orologi giapponese di prestigio. La gamma di orologi Orient si adatta a ogni esigenza e gusto, con una vasta scelta di modelli e stili. Gli orologi Orient sono adatti per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero, dalla vita di tutti i giorni alle occasioni speciali. Se stai cercando un orologio di alta qualità, con un design unico e una grande attenzione ai dettagli, Orient è sicuramente una scelta da considerare.